bello a tutti ragazzi sono dark tiger benvenuti in questo mio nuovo video oggi siamo ancora su destiny e adesso visto che sto registrando il video praticamente prima cioè dopo quello dell'episodio precedente infatti come vedete scontri già fatto stendardo di ferro ci sono limitato no però ancora non voglio portare stendardo di ferro quindi signori vorrei portare in istante e direi che siamo pronti al lancio però io devo andare un attimo qui signori perché con i vestiti novembre ormai è passato di moda abbiamo questo questo stasso più da da boom bici e get away perfettissimo mi sta cercando i cinque guardiani e quindi regà noi ci vediamo direttamente quando siamo in partita benissimo ragazzi siamo su il rilevatore temporale marte ho cercato subito ho trovato subito la partita cerchiamo di fare un buon punteggio bene puntiamo alla vittoria direi e allora regà e questo video non ci sarà un discorso di cui parleremo porco il diavolo quelli dovevo lanciare il coltellino e la granata moriva cazzo e vabbè dai regà ma non è giusto no veramente regà non è non è giusto e ma che cos'è ho capito che non gioco da tanto a destini c'ho ancora armi di merda però che mi rimedi con una capino fra regà cerchiamo di fare pro gamer mamma mia la precisione regà madre per quell demonio benedetto io veramente li uccido tutti dove cazzo è recupera recupera no rega sono uccidevo il premio oscar no rega il primo è a 6.65 come cazzo lo recupero no ditemi come cazzo lo recupero godo la rimonta signori guarda il camper neanche su cod porco l'ho visto si no ok l'ho ucciso io cazzo rega non mi aveva dato la kill e pensavo siamo secondi da tipo ultimi a secondi perfetto c'è andato il cazzone no perca se tipo passava uno lì nel momento che ho sparato rega volevo 3 euro cioè proprio me li inviavate 3 euro iva inclusa no si rega 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 guardate i pezzi rari che sto facendo è lì ho visto no pezzetto oh rega tipo mi ha sfiorato il pancreas il proiettile granati no 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 dimmi che si attacca con le granate cazzo ero primo ok rega 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 quanto manca eh manca manca un bel po' possiamo farcela possiamo farcela rega dove cazzo è vi giuro ho sentito uno fuoco incrociato quando è morto dopo eh vabbè che cazzo di palle morto dopo 30 minuti rega almeno sul podio ecco me la so tirata me la so tirata ne bevo sei davanti eh benedetto diavolo di cristo sei un fottuto minchione dai 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 porco il diavolo ti infilcio il pene è nella nella scella e poi vedi come muori insanguinato dalla madonna no non ci posso credere no rega no 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 non è possibile pure resuscitato quel coglione è quella 2000 scherzi quella 2000 scherzi ti asco fin porco di eh va bene comunque si cazzo eh volevo dirvi che forse comincia una serie eh sempre su destiny no farfa rega ma perché non lancio le granate ai coltelli questo era morto se lanciavo la granata dio sono un coglione comunque eh mo la lancio cristo mi rotti coglione eh vedete i risultati della granata rega non è morto sì seriamente no oh il pezzo raro questo è un pezzo raro dove cazzo è rega è un pezzo raro porco dio no hai perso eh vabbè eh vabbè fine missione rega eh vabbè abbiamo siamo arrivati ai secondi con un 16 13 e va bene rega noi ci vediamo nel prossimo video che vado proprio ora a registrare noi ci vediamo signori al prossimo video bello ciao